allora sono qui in solido sono qui in dimexpert e volevo far vedere questa cosa qua cioè se io ho questa questa ted che mi fa riferimento qui e qui però non posso portarla qua ok allora a questo punto se voglio proprio posso andare a cancellarla vado a mettere ancora quota di perchè quota di posizione base non me lo fa io se vado a mettere quota di posizione base tra qui e qui non me lo fa perfetto e sono a posto ok però ok perfetto e questa è tra qui invece questa qui mi prende ancora questa è questa mi prende questa dunque io dovrei cancellare questa ok andare a fare quota di posizione base da qui a qui ok però ho sbagliato perché doveva essere da qui a qui sbagliato dovevo farlo da qui a qui ok perché riferita lì questa qui invece cancello anche questa è questa sempre quota posizione base da qui a qui così c'era l'altra cosa ecco questa quota questo 40 che mi conviene cancellarlo dunque vado a quota posizione base da qui a qui e così ce l'avrò qui se poi voglio portarlo come nelle altre la sopra a questo punto dovrebbe spostarsi perfetto queste qua ok in modo da avere tutto abbastanza chiaro che questa quota riferita questa e così via vabbè dunque come faccio se non ce l'ho la la tede la quota posizione base ok vabbè spero di essere stato utile ci vediamo la prossima rivederci